Pomeriggio di terrore a Bazzano dove si è consumato tra la gente in pieno giorno un duplice omicidio a colpi di arma da fuoco. Il fatto si è verificato nel piazzale del supermercato MD di Bazzano, accanto al negozio Sapore di Mare, in una zona piena di locali commerciali. Ad uccidere a colpi di pistola la giovane donna di 35 anni e un uomo di 40 e il suo compagno è stato un cittadino albanese di 49 anni, Caprani Buran. L'omicida è stato arrestato dai carabinieri mentre tentava di allontanarsi a piedi. La giovane donna uccisa aveva 35 anni e si trovava all'interno della sua autovettura, un'Opel Corsa, parcheggiata fuori il supermercato. Il compagno invece era fuori dall'abitacolo, i due malcapitati sono morti sul colpo. Quando l'assassino ha sparato, la mamma della giovane vittima si trovava all'interno del supermercato per fare la spesa. Si è trattato di una vera e propria esecuzione, eseguita con due colpi di pistola sparati a bruciapelo. Probabilmente si tratta di un omicidio, un duplice omicidio di natura passionale. La madre della giovane donna uccisa è ora ricoverata in ospedale in stato di shock. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la polizia di Stato, un fatto di una gravità inaudita che ha lasciato sgomenti i cittadini presenti in quel momento nella zona commerciale di Bazzano.